BOTTI Cardelli manda il pallone in avanti, zona magnifico Cottani, avanza Cottani, attenzione al suo mancino lo fa partire Malorni, magnifico chiama il pallone, si va per vie centrali, ecco Malorni Si chiude l'1-2 con il DS che se la sposta sul destro, il tiro è potente, il portiere mette in corner Magnifico Luciani con il numero 6, Riolo ci prova, è una buona idea Che intervento di Palombi Verdel fa correre il suo compagno, vende Attenzione, pallone recuperato da Campi Davanti al portiere letale, si porta in vantaggio l'Orange Football Campi Fabiani Fabiani, non lo tengono, Fabiani in crocia Un gol mozzafiato del classe 2004 Con l'esterno, cercato l'attaccante, Campi La stersata di Campi Occhio al numero 6 Massaggio meraviglioso per l'attaccante Che si gira in un fazzoletto e calcia in porta Tiro però termina sul fondo Dirollo e Riolo Vediamo che si Incaricherà della battuta del calcio di punizione La rincorsa di Riolo Palla che passa E buca la rete 2-1 per la Magnitudo Con Riolo Qui un attento Botti Proietti, allunga il passo Proietti Ecco cercato Campi Davanti alla portiere La stersata Campi con il Mancino Che finalizzazione Buona idea Luciani Allunga il passo Luciani Ecco Dirollo Pallone all'angolino Quando siamo al tramonto del primo tempo Fabiani si porta avanti il pallone con la suola Roberti lo scarico per Dirollo Che vede la porta La traversa colpita da Dirollo È una poesia Corner battuto velocemente Ecco Roberti Roberti passa Roberti calcia Mi vediamo il portiere Fotti È passato Campi Campi Una giocata da urlo Portavanti palla con la suola Ora si accentra Carica il Mancino russo Tiro insidioso Tiro insidioso Pedulla È bravo Dai 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 Ti si chiude l'1-2 con Campi Che scivola Luciani Riolo Ora Roberti Roberti Ha una prateria davanti a lui Roberti davanti al portiere Roberti con la punta Malorni Sbaglia il passaggio Luciani Con il destro Manca l'appuntamento con il gol Allora Fabiani Due contro uno Roberti Sterzata di Roberti Carica il destro Poi serve Fabiani Si chiude l'1-2 con Roberti 4-2 per la magnitudo Russo Bucata centrale che non riesce La pressione dell'Orange Football Botti Serve Campi Sigla la rete del 4-3 Ma non c'è più tempo Vince la magnitudo per 4-3 contro l'Orange Football Un caro saluto da Andrea Mirulla Grazie